Ciao dalla Trattoria, prima di andare a vedere il risultato di Genoa Regina che come sappiamo ha finita 1-0 per il Genoa, vi ricordo di iscrivervi al canale perché la quota 1000 è lì, ci manca poco, scrivete anche voi, commentate anche voi il risultato di stasera ma soprattutto iscrivetevi al canale perché obiettivo 1000 prima della fine del campionato vediamo se ci riusciamo, passiamo alla partita, Genoa batte Regina 1-0 1-0 con un gran gol di coda, perché? Perché nella prima mezz'ora la Regina aveva imbrigliato bene il Genoa riuscivamo a fare poco, poco e niente là davanti, poi però quando hai un attaccante come coda che vede la partita, vede la porta come nessun altro, un ottimo Sturaro perché porta palla la coda si allarga e poi gran tiro di coda, incrociare, un grandissimo gol di coda però questa partita bisogna dire grazie anche a Martinez, perché? Perché al 95esimo, 96esimo così era, il Genoa prende una traversa con Badel e nella ripartenza Canotto prova a fare un pallonetto su Martinez, ma Martinez salva tutto con un colpo di reni fantastico e il Genoa vola a meno 3, sto vedendo adesso la classifica, 59 punti, saremo a 60 per quel punto di penalizzazione ma comunque 59 punti, 8 punti sul Sud Tirol, 9 sul Bari, che dire, l'obiettivo è lì, è alla portata di mano e sinceramente anche oggi ho visto un grande 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 Genoa, veramente un Genoa implacabile, non prendiamo gol da 6 partite, non perdiamo da quella disfatta di Parma, è un Genoa che sta uscendo alla distanza, tutti dicevano che eravamo una carazzata, ci eravamo un po' smarriti nel finale del girone di andata, però adesso sta uscendo veramente quella, tra virgolette, corazzata che tutti dicevano, il Genoa sta uscendo, sta uscendo fuori, ha un Genoa pragmatico perché oggi è bastato quel gol di Coda, poi in Genoa ci siamo divorati altri due o tre gol che potevamo chiudere la partita e finirla lì e invece abbiamo tenuto la partita in piedi fino all'ultimo, però sappiamo soffrire, questa squadra sa soffrire, sa difendere e porta a casa tre punti che ripeto, non dico fondamentali perché ne mancano ancora sette, ma tre punti veramente, veramente importanti e penso che se il Genoa mancano adesso sette partite, se il Genoa ne vince ancora tre sarà difficilmente prendibile da Bari o Sud Tirol, mi bilancio così perché comunque vedo una squadra veramente compatta, una squadra forte sia in difesa che a centrocampo, abbiamo recuperato Sturaro, oggi Crescito ha fatto un'ottima partita, Vogliacco ormai è diventato un punto fermo ed è insuperabile là dietro insieme a Dragos in una coppia perfetta, davanti Gudunson anche se oggi magari era un po' sottotono, anche perché è marcato da due o tre avversari, però ha sempre quei guizzi che ti possono portare scompiglio nella difesa avversaria e poi comunque hai anche chi ti subentra, hai dei giocatori importanti anche dalla panchina che ti entrano. Per quanto riguarda la partita oggi c'è poco da dire, diciamo che sicuramente secondo me se la Regina avesse iniziato la partita con Canotta e Fabian come all'andata forse ci avrebbero messo ancora, ci avrebbero messo molto in difficoltà, però Fabian non era in condizione e poi Inzaghi ha deciso di iniziare con Strelek ed è andata bene così secondo me, però il Gena oggi ha giocato di nuovo bene perché dal venticinquesimo in poi del primo tempo fino a tutto il primo tempo la Regina non ha più superato il centrocampo e il Gena poteva chiudere la partita su 2-3-0 fino al primo tempo. Poi l'abbiamo portata avanti, nel secondo tempo di nuovo il Gena ha avuto qualche palla a gol per chiudere la partita, poi è uscito giustamente anche la Regina che ha avuto le sue opportunità con Hernani, ma di nuovo un grande Martinez e poi con Canotto nel finale, ma Martinez è stato insuperabile, però si vede che questo è un gruppo forte, un gruppo coeso, un gruppo che sta andando spedito verso quella parola, quella frase che si chiama Serie A e le parole di Martinez poco fa che dicevano il nostro obiettivo è andare a prendere il Frosinone, beh si fa capire la mentalità che Gilardino ha portato in questo gruppo, mentre la mentalità di Blessing era pareggiare, meglio non prenderle, però non proviamo neanche a darle, ma il passato è passato, è inutile continuare a parlare di Blessing, ma è giusto anche dire che questa posizione classifica, questi risultati, sono sicuramente merito anche di Gilardino, Gilardino stava facendo benissimo con la primavera e si è fatto vedere veramente anche in prima squadra, è un grande allenatore, è un allenatore che avrà sicuramente una carriera importante perché sta conducendo il Gena con una tranquillità incredibile verso quel risultato che tutti speravamo all'inizio del campionato, che siamo andati un po' in difficoltà verso la fine della giornata, ma poi Gilardino ha messo la situazione a posto, il Gena ha incominciato a volare, quindi c'è poco da dire, adesso questa vittoria mette pressione sicuramente al Bari che domani gioca col Benevento, quindi una partita in casa, quindi partita abbordabile per il Bari che potrebbe rimanere a meno 6 dal Gena, però il Sud Tirol potrebbe staccarsi perché affronta il Cagliari, il Cagliari secondo me andrà a prendere il terzo posto, il quarto sicuro, ma secondo me rischia di arrivare addirittura a terzo il Cagliari, e noi magari secondo, e noi probabilmente secondo, però silenzio. E niente, poco da dire, ripeto, grande partita, grande Gena, non si sentiva questa atmosfera forse neanche dai tempi emilito, questa atmosfera era forse dagli anni 90, dagli anni di Scuravi e Aguilera che a Genova sponda rosso-blu, non c'era questa atmosfera, questa voglia di Genoa, oggi 30.000, praticamente è stadio quasi esaurito, penso che la prossima in casa sarà di nuovo un problema trovare biglietti, ormai da qui alla fine sarà molto complicato trovare biglietti. Io ho guardato un po' le giornate, facendo gli scongiuri, se dovessimo festeggiare la Serie A forse la festeggiamo o a Bolzano col Sud Tirol o qua in casa con l'Ascoli, penso che siano quelle due giornate che probabilmente potrebbero darci la matematica promozione. Però adesso non pensiamoci ancora, godiamoci questa ottima e grande vittoria sulla Regina, che comunque ha fatto una gran partita anche la Regina, ha rovinato tutto l'arbitro perché oggi ha arbitrato veramente, veramente male in entrambe le direzioni, ha fatto il nervosino un po' tutta la partita, poi è spulso Sturaro, è peccato perché Sturaro secondo me ci serviva e secondo me almeno due giornate se le piglia tutte, peccato perché era un elemento veramente che ci serviva in queste prossime due partite, però andiamo a Como con l'umore altissimo, con la consapevolezza che questa squadra è difficile da battere in questa Serie B e addirittura è difficile segnare in questa Serie B. Quindi niente, iscrivetevi al canale, fateci arrivare a mille e così magari a maggio festeggiamo due volte e magari tre con la salvezza del Cosenza e niente. Ripeto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima, che sarà sabato, sarà comogena. Ciao a tutti da Trattoria Sportivale.